La strana coppia è cool, Enrico Guagli è cool, sanguola ora è più cool La strana coppia Signori però abbiamo la grande voce italiana nel mondo, il tenore Patrick Salati Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me Buongiorno Patrick, buongiorno ragazzi Allora Patrick io faccio finta di non aver letto alcune cose su Facebook su una certa partita Tu invece devi commentare questo grande scandalo, ogni tanto abbiate il coraggio di ammettere le buone Assolutamente no, io faccio finta di nulla e ti ritengo ancora amico Però se insisti io dopo Ma possiamo quando c'è il bel canto possiamo non parlare il calcio che rovina sempre Sei d'accordo Patrick il calcio rovina D'accordissimo, d'accordissimo anche se insomma dai La Juventus ci sta la squadra più forte che cercano E ancora, porca miseria Parliamo d'amore, parliamo d'amore perché Paolo stamattina fa una dedica alle sue due donne Sandra e Alice che stanno andando insieme a scuola e al lavoro con tanto amore Lui si è alzato così, Paolo E vuole omaggiarle con la tua canzone Cosa interpreti stamattina? Tenore in pigiama Sentiamo Questa mattina cominciamo con le scintille Facciamo funiculi, funiculà Olla Peppa E la voglio dedicare agli amici della geletteria K2 di Mirandola Vabbè K2 di Mirandola L'importante è che tutti gli ascoltatori adesso con funiculi, funiculà Tirino fuori i fazzoletti perché facciamo la fazzolettata Assolutamente E si blocchino anche in mezzo alla strada così blocchiamo il traffico Vai Patrick Vai dalla sua cameretta Patrick Grazie Grazie Funiculi, funiculà Funiculi, funiculà Funiculi, funiculà Funiculi, funiculà Funiculi, funiculà Una strage di vetri alla fine Funiculi, penso che io volevo camminare a piedi nudi a Napoli e a tutti gli amanti del bel canto bravo ciao Patrick buona giornata alla prossima